Blitz dei ladri in un locale di Campo d'Arsego. I malviventi sono entrati in azione col favore delle tenebre, forzando la porta d'ingresso di un bar che si trova in via Antoniana. Una volta dentro hanno avuto campo libero, fuggendo poi con un intero cambiamonete, facendo perdere le proprie tracce. I danni sono in via di quantificazione.